Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiamo, siamo a Cheto appunto per un importante evento, un seminario per quanto riguarda l'aspetto del borgo di Cleto. In mia compagnia il professor Pierluigi Grandinetti che illustrerà il lavoro conoscitivo e progettuale svolto in quest'anno con l'Università di Venezia. Un lavoro molto importante e che comunque ha una sua unicità sul territorio e che può essere sicuramente esportato e diventare un banto non solo per la Calabria. Sì, noi stiamo lavorando sui borghi antichi del Mediterraneo, all'interno di questo sulla Calabria siamo partiti con un progetto con Flenti e un progetto Cleto. Sul progetto Cleto abbiamo fatto questo laboratorio didattico della laurea magistrale con altri colleghi docenti e gli studenti hanno preparato questi pannelli e questi modelli, questi plastici. Quindi c'è una mostra che poi rimarrà a Cleto e diventerà una mostra permanente. Abbiamo cercato di indagare le caratteristiche di questo straordinario borgo, veramente eccezionale, che si è conservato anche perché è stato abbandonato. E' un borgo che è un vero gioiello che la Calabria ha come ha molti altri borghi, semi abbandonati, con Flenti Superiore, ieri abbiamo visto Altilia e così via, che possono diventare elementi di un percorso turistico di valorizzazione, mettendoli in rete e che sono oggi, secondo me, una straordinaria risorsa per la Calabria, che purtroppo la Calabria, di cui la Calabria ancora non è consapevole, a parte i sindaci. Quindi è ora che la regione si svegli e si renda conto che i borghi calabresi sono veramente una risorsa mondiale che può costituire elemento per una rinascita, un rilancio turistico e quindi anche economico e produttivo. Professore, un'ultima domanda, poi la lascio al seminario che so che inizierà da qui a breve. Lei viene appunto da Venezia, che comunque da sempre ha valorizzato o saputo valorizzare. Probabilmente l'errore è proprio questo, non riuscire a instillare nel Calabrese la voglia di curare il proprio territorio. Poi voi avete fatto bene a fare un corso di laurea perché si parte dagli studenti, quindi insegnare agli studenti quello che poi gli altri stati fanno. Sì, diciamo che io sono di origine calabrese, mio papà è nato a Conflenti e se n'è andato nel 1936 perché le condizioni economiche non consentivano di poter lavorare qui. E io dopo 80 anni sono tornato perché ho una figlia di Anna di 9 anni e ha conosciuto i cugini e le cuginette calabresi. Ecco, c'è un mistero calabrese che è questo. La Calabria ha delle risorse straordinarie, storiche, culturali, alimentari, qui si mangia benissimo, avete delle eccellenze agroalimentari, avete un sacco di soldi, finanziamenti. Come mai la Calabria è la regione più povera d'Italia? Ecco, a questa domanda io non so rispondere. Io spero che ci sia una rivoluzione culturale e che la Calabria sia proprio delle sue ricchezze che ha e riesca finalmente a valorizzarle. Questo è un aspiccio che faccio veramente col cuore. Io ringrazio di cuore davvero il professor Pierluigi Grandinetti, gli auguro un buon seminario. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto. Grazie.